Buongiorno, sono Davide, il responsabile del negozio P4 di CityLife a Milano. Sono qui per presentarvi il trolley da cabina della linea PC+. Il trolley è realizzato in policarbonato dall'effetto metallico e impreziosito da inserti in pelle sulle maniglie per un prodotto che sposa perfettamente due esigenze di chi viaggia per lavoro, performance e stile. La particolarità di questo trolley è che, pur essendo rigido, presenta una tasca frontale richiudibile con zip all'interno della quale si trova una doppia tasca imbottita per un PC da 15,6 pollici e un iPad. Ogni dettaglio di questo prodotto è estremamente curato. Le quattro ruote piroettanti ne fanno un trolley estremamente maneggevole ma silenzioso e la chiusura TSA a combinazione lo rende ispezionabili dalle dogane internazionali senza necessità di forzare la serratura. Internamente ha due scomparti foderati di un elegante tessuto spigato con pannelli fermabili e tasca zippata. Inoltre, questo trolley fa parte della famiglia delle valigie intelligenti di P-Quadro. Infatti, al momento dell'acquisto, potrete richiedere gratuitamente il Connecube, il dispositivo di geolocalizzazione di prossimità ideato da P-Quadro, da connettere via Bluetooth al vostro smartphone e o al vostro smartwatch. Il dispositivo Connecube connesso al vostro smartphone grazie all'app disponibile su App Store e Play Store funzionerà da allarme. Farà squillare il cellulare quando la connessione viene a mancare perché qualcuno vi sta portando via il bagaglio o ve lo state dimenticando in treno o in aereo. Inoltre, vi permetterà di localizzare l'ultima posizione dello zaino al momento in cui è avvenuta la disconnessione. Questo trolley è abbinabile a borse e zaini della linea Black Square realizzate nel medesimo pellame per un set da viaggio estremamente elegante e funzionale. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a visitare il nostro sito web e i nostri negozi in Italia e nel mondo.